Siamo arrivati a questa prima serie, 100 stimenti per l'oro, a Ski, vettore italiana della 355, Filippo Venini, 48 e 24. 4, e a 7 Marbosi, questa mattina ha lanciato il razza 34, 21 per Marbosi, Luca Dotto in percorsi a 4, Luca Dotto in percorsi a 2 per tanto, Luca Dotto a passare in fantasia e a 50 metri, Marco Melotti alla 0, 5 posizione, Filippo Manini alla 5 per l'inizio, ecco, ma siamo già gli ultimi 15 metri di carico, Luca Dotto alla 4, Filippo Manini alla 5, e un'altra abbracciata per il volo, e l'unico dopo con 49 e un'altra abbracciata in questa finale, la prima sette, 100 scrivendo Mastilli, 49 e un'altra abbracciata in Filippo Manini, 49 e 54 per Marco Melotti Vince il 100 scrivendo Luca Dotto, con lui sul podio Filippo Manini e Marco ada la sulle azioni così come i attri, i 800 scrivendo femminili e i 200 listi femminili per cortesia Grazie